... Incendio garage nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, poco prima delle 16.30, in strada del casino Castellamonte, le fiamme sono divampate all'interno di una struttura posta di fronte all'abitazione principale, dove erano posizionati due garage. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brea Castellamonte e i carabinieri. L'incendio pare sia scaturito dalla vettura appena parcheggiata, una Fiat Panda, che è andata completamente distrutta, così come la struttura che ospitava l'autorimessa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. ... 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